A novembre 2011 la sua auto venne data alle fiamme assieme a quella del giudice di Teramo Marina Tomolini, il magistrato che a settembre ha condannato all'ergastolo Salvatore Parolisi. Dell'autore di quei roghi dolosi ancora non c'è traccia. Qualche giorno fa si è ripetuta la stessa scena ma l'attentato incendiario non è andato a buon fine. Ad essere preso di mira questa volta è stato il luogotenente Spartaco De Cicco del reparto operativo dei carabinieri di Teramo che ha condotto con successo diverse inchieste delicate e scottanti. La sua auto posteggiata davanti alla propria abitazione a Martinsicuro è stata interessata da un principio d'incendio. Per questo è stato disposto da parte dei carabinieri un servizio di pattugliamento costante del quartiere in cui vive De Cicco. Al luogotenente dell'arma aggiungono attestazioni di solidarietà e vicinanza fra tutti quelle del sindaco di Martinsicuro Paolo Camaioni. Per il primo cittadino il fatto che sia stato oggetto di queste attenzioni dimostra come De Cicco operi con il più alto senso del dovere di giustizia che da sempre ha caratterizzato la sua persona e la sua divisa.